molti sono i nostri mali la miseria in questa breve vita è grande di ogni forma questa dominando il vasto nostro orizzonte a guisa dell'arcobaleno mostra i suoi colori distinti e svariatissimi che tuttavia sono tra loro intimamente uniti e fusi ho detto dominando il vasto nostro orizzonte a guisa dell'arcobaleno e come mai da un esempio di beltà celeste ho io potuto trarre un tipo di schifosa bruttezza come dal simbolo di alleanza una similitudine del dolore allo stesso modo che nella filosofia il male è figlio del bene così nella realtà dalla gioia scaturisce l'affanno ossia che il ricordo del passato formi l'angoscia del presente ossia che le agonie che esistono piglino le origini dalle estasi che possono essere esistite racconto una storia la cui essenza è piena d'orrore e per la verità la tacerei molto volentieri se non fosse piuttosto una cronaca di sensazioni anziché di fatti il mio nome di battesimo è egeo quello della famiglia non lo dico non v'è in paese castello più ricco di gloria o vecchio danni della malinconica ed antica dimora dei miei padri ivi da immemorabile tempo la mia famiglia era tenuta per una razza di visionari il fatto è che in molte particolarità strane e meravigliose nel carattere della nostra casa feudale negli affreschi della grande sala nelle tappezzerie delle camere nelle cesellature delle colonne della sala d'armi e più specialmente nella galleria dei vecchi quadri nella fisionomia della biblioteca e nella natura tutta speciale dei suoi oggetti in tutto questo vi dico vera e ve in abbondanza di che giustificare tal credenza i ricordi dei miei primi anni sono intimamente legati a questa sala e ai suoi molti volumi di cui non farò più parola è là dove morì mia madre ed è là dove io nacqui riuscirebbe molto inutile l'affermare che io non abbia vissuto anteriormente che la mia anima non abbia esistito prima di questa vita lo neghereste voi capisco questa non è materia di controversia convinto io non cerco di convincere via d'altronde tali ricordanze aeree indistinte indefinite quasi punti visivi e parlati dell'intelletto quasi echi melodiosi e mestidi impercettibili lontano ricordanze sempre svolazzanti persistenti specie di memoria simile ad ombra vaga variabile infinita vacillante ombra esistente essenziale di cui mi sarà impossibile liberarmi tanto che risplenderà il sole della mia ragione ripeto è in quella camera che sono nato adunque venendo io dal fitto di una lunga notte che pareva sì ma non era la non esistenza per piombardo un tratto in un paese fatato in un palazzo tutto fantastico negli strani domini del pensiero e dell'erudizione monastica non vi sembrerà cosa molto singolare che mi sia guardato d'attorno con occhio spaventato ed ardente che abbia logorato la mia infanzia sui libri e consumato la mia giovinezza nei sogni ma a quegli anni essendo passati e il bello della mia virilità avendomi tuttavia trovato nella dimora dei miei antenati ciò che deve in vero parere strano è quella specie di immobilità di inazione avvenuta nelle sorgenti della mia vita è quell'invertimento completo operatosi nel carattere dei miei più comuni e semplici pensieri la realtà delle umane cose mi impressionavano a guisa di visioni e niente più che visioni mentre al contrario le folli idee del paese dei sogni i fantasmi del soprannaturale dello spiritismo formavano non dirò l'ordinario alimento dei giorni miei ma quello positivo ed unico dell'intera mia esistenza berenice ed io eravamo cugini e da men due venimmo su negli anni presso la casa paterna ma crescendo presto spiegammo disposizioni fisiche differenti io ero sempre malaticcio e sepolto nella mia mestizia essa tutta agile tutta grazia e di rigogliosa energia a lei lo scorrazzare per campi e pendici a me gli studi del chiostro continui e pesanti io tutto a vivere nell'intimo del cuore dedito anima e corpo alla più intensa alla più macerante meditazione ed essa ad errare spensierata per le vie senza un sorriso all'esuberante giocondità del mattino senza un poetico sospiro al solenne e mistico silenzio della sera berenice io invoco il tuo nome berenice e dalla stanca memoria si svegliano tuttavia mille ricordi tumultuosi del nostro passato o la di lei immagine ancora lì vivente innanzi a me come ai giorni sereni della sua gioia e della sua felicità o beltà magnifica e fantastica ad una o silfide errante nei cari boschetti di arnheim o naia de tra rivi di argento ed ora ora è tutto mistero e terrore profondo è una storia che sdegna di aprirle sue pagine un male un fatal male la vinghiò nelle sue spire e a guisa del vento del deserto la batté quale spettacolo durante il tempo stesso che io la stava osservando lo spirito di trasformazione passava su di lei e la tramutava compenetrando il suo spirito le sue abitudini il suo carattere e sottile sottile terribile terribile torbando persino la stessa sua identità ahimè il distruttore invisibile veniva e se ne andava a guisa di ladro ma la vittima la vera berenice che era ella mai divenuta in verità non la riconoscevo più ormai io non la riconoscevo più almeno come berenice tra le numerose serie di mali venuti dietro a questo primo e fatale assalto il quale operò una sì orribile rivoluzione nell'essere fisico morale di mia cugina è importante il rilevare come il più tristo e pertinace fosse una specie di epilessia che il più delle volte mutavasi in catalessi catalessi perfettamente simile allo stato di morte da cui ella talvolta destavasi come di soprassalto spaventata e lassa contemporaneamente il mio proprio male era stato assicurato essere della stessa origine cresceva rapido rapido sino a che aggravandosi per un immoderato uso di oppio prese infine il carattere di una monomania tutta straordinaria e nuova d'ora in ora di minuto in minuto la sua energia cresceva e col volger dei di giunse a tale che nella più singolare ed incomprensibile maniera dominava tutto il povero mio individuo questa monomania già che è necessario la chiami con tali parole consisteva in una morbida irritabilità delle facoltà dello spirito stato che in linguaggio filosofico si chiama facoltà d'attenzione probabilmente io non sarò qui compreso o ben poco ma temo davvero di trovarmi nell'assoluta impossibilità di dare alla comune dei lettori un'idea esatta di questa nervosa intensità di interesse con cui nel mio caso per evitare termini tecnici la facoltà meditativa si fissava e si approfondiva nella contemplazione degli oggetti più volgari della vita indefessamente meditavo per lunghe e lunghe ore condensando l'attenzione su qualche nota puerile tra il margine di un libro o l'intervallo del testo restavo interamente assorto la maggior parte del giorno in un'ombra bizzarra obliquamente proiettantesi su damaschi polverosi sul pavimento tarlato mi lasciavo per una notte intera fissare la fiamma vibrante di una lampada o le braci rosseggianti del camino fantasticavo continui e continui giorni sul profumo dei fiori ripetevo nella più monotona spensieratezza qualche comunissima parola e la ripetevo tanto che il suono a furia di essere ripetuto finiva per perdere di significato perdevo ogni sentimento di moto e di esistenza fisica in un ozio assoluto eccovi amici alcune delle più comuni e delle meno dannevoli aberrazioni delle mie facoltà mentali aberrazioni che certamente non sono fuori di esempio ma che rifiutano di certo ogni spiegazione ed ogni analisi o lo spirito avanti io voglio essere ben compreso la normale l'intensa la solenne attrazione che per tal modo in me si eccitava da oggetti di per se stessi frivolissimi e di tale natura da non confondersi con quell'inclinazione al fantasticare comune a tutta l'umanità a cui soprattutto si abbandonano le persone di immaginazione ardente questa attenzione come potrebbe parere da prima non solo era un limite eccessivo un'esagerazione di questa tendenza ma ne era altresì per origine e per essenza affatto distinta nell'un dei casi il fantasticatore l'uomo dall'immaginazione potente venendo d'ordinario interessato da un oggetto anziché no serio lo perde a poco a poco di vista attraverso le immensità delle deduzioni e degli stimoli che ne scaturiscono e con tale efficacia che all'invanire di questi sogni pieni spessissimo di volutà arcana egli il povero fantasticatore trova riconosce l'incitamentum causa prima delle sue riflessioni intieramente svanito ed obbliato nel caso mio il punto di partenza era invariabilmente frivolo quantunque nei fantasmi della malata fantasia rivelasse un'importanza superficiale e di rifrazione io facevo in vero poche deduzioni seppur talora ne facevo nella quale circostanza esse volteggiavano sino a fissarsi nell'oggetto primitivo siccome in lor centro le mie meditazioni ritraevano un non so che di amaro e al dileguarsi di quelle strambe chimere la causa primitiva invece di essermi si dileguata dagli occhi della mente aveva raggiunto quell'interesse tanto soprannaturalmente esagerato che formava la più spiccata qualità del mio male in una parola la facoltà dello spirito più specialmente eccitata in me era come dissi quell'attenzione mentre la facoltà del fantasticatore comune è sempre la meditazione di quel tempo i miei libri in uso se direttamente non servivano ad irritare il mio male partecipavano però largamente ed è facile comprenderlo alle qualità caratteristiche di esso in forza appunto della loro immaginaria e di ragionevole natura tra gli altri mi ricordo assai bene del trattato del degnissimo italiano celio secondo curione de amplitudine beati regni dei della grande opera di sant'agostino de civitate dei e de carne christi e di tertulliano il cui inintelligibile pensiero mortus est dei filius credibile est quia ineptum est et sepultus resurrexit certum est quia impossibile est per più settimane assorbi proprio tutto il mio tempo in un inutile e laboriosissima investigazione di intelletto vedete ora quale malia com'è facile a pensarsi bruscamente disturbata dalle più futili cose la mia ragione poteva benissimo rassomigliarsi a quella rupe di mare di cui fa parola tolomeo e festione rupe che qual torre resisteva immobile ad ogni violenza umana e dal furore più terribile delle acque e dei venti e che tuttavia tocca appena dalla sfodelo cupamente vacillava in sua base a un filosofo superficiale potrà sembrare semplicissimo e fuor dubbio che la terribile alterazione prodotta nelle condizioni morali di berenice dalla sua deplorabile malattia potesse apprestarmi il precipuo soggetto di esercitare quell'intensa ed anormale meditazione di cui testè provai non poca difficoltà a spiegare la natura eppure chi lo crederebbe nulla proprio nulla vi era di tutto questo nei lucidi intervalli della mia infermità è vero la sua malattia mi dava un grande affanno quella completa ruina della sua vita bella e dolce mi schiantava il cuore di spesso colmo di amarezza io andava meditando sulle misteriose e strane vie in cui sarebbe scoppiata una rivoluzione si pronta e misteriosa ma questi pensamenti non facevano parte dell'idiosincrasia del mio male essi erano tali che in circostanze analoghe si sarebbero presentati egualmente all'ordinaria maggioranza degli uomini fedele al suo proprio carattere la mia malattia si pasceva dei mutamenti meno importanti ma più forti ed improvvisi che si manifestavano nel sistema fisico di berenice in quel singolare e spaventevole sfacelo della sua identità personale nei giorni più splendidi dell'incomparabile sua bellezza io era certissimo di non averla mai amata nella strana anomalia della mia esistenza posso affermare che i sentimenti non mi vennero mai dal cuore e che le mie passioni sono sempre discese dallo spirito attraverso i brancicanti barlumi del crepuscolo mattinale attraverso le folte fresche ombre del meriggio di notte nel silenzio sepolcrale della mia biblioteca o quante quante volte era mia e la balenata allo sguardo e io l'aveva contemplata lì lì non come la berenice vivente e palpitante ma come la berenice di un sogno non come un essere della terra un essere carnale ma come l'astrazione di un tale essere non come una cosa da ammirarsi ma da studiare in ogni sua parte non come un oggetto d'amore ma come il tema di una meditazione quanto astrusa altrettanto irregolare e ora ora io tremavo convulso in sua presenza io impallidivo al suo accostarsi non di meno nello struggermi amaramente della sua deplorabile condizione di languore e deperimento mi rammentai che essa mi aveva lungamente amato e in un cattivo momento le parlai schiettamente di matrimonio e l'epoca stabilità alle nostre nozze al fin si avvicinava allora che un dopo pranzo d'inverno in una di quelle rare giornate calde calme e nebbiose predilette di alciona la bella credendomi solo io mi era assiso nel gabinetto della biblioteca poco dopo alzo gli occhi ed eccoti ritta ritta innanzi a me berenice qual vista mio dio quale vista e l'era una vera apparizione fosforescente ma questo dunque era effetto dell'immaginazione esaltata o era l'influenza dell'atmosfera nebbiosa o il crepuscolo incerto della stanza o le vesti oscure che avvolgevano la sua persona che le dessero contorni si ondeggianti ed indefiniti in vero non lo saprei dire forse nel progresso della sua malattia ella sarà fatta più alta non mi disse motto ed io per tutto l'oro del mondo non le avrei rivolto una sillaba un gelido ribrezzo mi serpeggiò in ogni fibra una sensazione di angoscia insopportabile mi opprimeva una curiosità divorante mi penetrava l'anima abbandonandomi vinto di forze sopra una poltrona restai alcun tempo senza respiro e senza moto gli occhi sbarrati e fissi sulla di lei apparizione oimè la sua magrezza era divenuta estrema e né un sol contrassegno del primitivo suo essere era sopravvissuto rimasto a darle l'aria dei lineamenti passati infine i miei occhi presero appassionatamente a fissare il suo volto con ardore convulsivo alta la fronte pallidissima e singolarmente calma e i capelli che già di un nero di pirite le coprivano in parte ombreggiandole le scarne tempi ad innumerevoli anelli adesso erano tratti a un biondo rossiccio la cui fantastica apparenza scempiamente contrastava con la dominante mestizia di tutta la fisionomia senza vita e splendore i suoi occhi mi apparivano privi di pupille un dio penosamente e quasi inconscio stornai i lumi da quella vitere a fissezza e li trassi alle sue labbra sottili sottili e come sconciamente avvizzite e queste si aprirono ed ecco in un sorriso singolarmente significativo lenti lenti apparire al mio sguardo i denti della nuova berenice mio dio mio dio quei denti o non li avessi mai veduti quei denti o visti appena fossi morto il lento lento stridere di una porta che si chiudeva mi scosse da quella strazione ed io levati gli occhi mi accorsi che mia cugina aveva lasciato la stanza ma lo spettro bianco dei suoi denti scorreva nel mio cervello ed era sempre lì come vagolante però l'impressione di quel suo sorriso passeggero fu tanto viva e profonda nella mia memoria che non mi sarebbe sfuggito il menomo screpolo della superficie di quei denti la menoma tinta in quella nitidissima loro uniformità la più lieve ineguaglianza sulle loro punte oh ma quei denti quei denti erano troppo stupendamente belli anzi rimasto solo io li vidi ancor più distintamente che non li avessi osservati poc'anzi quei denti quei denti erano là e poi là sempre là e dappertutto visibili palpabili a me dinanzi lunghi affilati eccessivamente bianchi tra quelle labbra pallide livide or bruttamente convulse or scempiamente vizze ora spaventosamente tese come poc'anzi e qui mi riassalì la piena furia della mia monomania ed in vano dovetti lottare contro l'irresistibile strano suo influsso non più un pensiero per il numero sterminato ad oggetti di questo mondo esteriore tutta la mia mente tutte le mie idee non era anche per quei denti quanto a loro io provavo una specie di frenesia irresistibile ogni altro oggetto ogni interesse diverso venne tutto assorto in questa contemplazione essi essi soli i denti erano dinanzi al mio spirito tanto che la loro esclusiva individualità diventò la vera essenza della mia vita intellettuale io me li vedevo presenti le intiere giornate io li consideravo li passavo persistentemente ad esame per tutti i versi ne studiavo tutti i caratteri ne osservavo le particolari loro linee ne meditavo la conformazione riflettevo all'alterazione della loro natura e tremavo a verga a verga attribuendo loro con la mente le facoltà di sensazione di sentimento sino a pensarmeli senza l'indumento delle labbra per accordar loro una potenza di espressione morale molto a proposito si è detto parlando di madame gella saltè che tutti i suoi passi erano sentimenti e di berenice molto più seriamente che tutti i suoi denti erano idee idee ecco ecco l'assurdo pensiero di cui caddi vittima i denti idee eccovi eccovi il perché li vedevo li contemplavo li studiavo li desideravo tanto i denti erano idee e sentivo che solo il poter li possedere mi avrebbe ridato la pace e riammesso nella ragione erano idee e la notte scese su di me e vennero le tenebre e dominarono e poi lente lente si dileguarono e venne un nuovo giorno e le ombre di una seconda notte si addensarono su di me e sempre io rimanevo immobile in quella camera solitaria sempre seduto sempre sepolto nella mia meditazione fittissima e sempre in fantasma quei denti a librarmi si intorno a mantenere quegli influssi così che la larva vivissima e ributtantissima volteggiava qua e là attraverso la luce le ombre cangianti della camera infine a mezzo di questi sogni scoppiò un grido di grande orrore di grande spavento a cui dopo una breve pausa successe un rumor di voci desolate interrotte da gemiti di sordo dolore e distraziante affanno mi rizzai su e aprendo una delle porte della biblioteca incontrai nell'anticamera un famiglio tutto in lacrime il quale mi annunziò che berenice era morta colpita d'epilessia al mattino aveva soccombuto ed ora al venire della sera la fossa attendeva l'ospite novella e già tutti i preparativi della sepoltura erano compiuti pieno il cuore d'angoscia oppresso dal terrore con forte ripugnanza di ressimi ai passi verso la camera da letto della defunta questa camera era ampia e tetra e ad ogni passo inciampavo nei preparamenti della sepoltura le cortine del letto mi disse un famiglio essere chiuse sopra la barra nella quale aggiunse con voce bassa e commossa già c'è tutto quanto resta della berenice chi è dunque che mi chiese se volevo vedere il cadavere di lei stravaganza nessun labbro si era mosso né io lo vidi almeno e tuttavia questa domanda mi era stata rivolta e l'eco delle ultime sillabe vibrava ancora nella camera essendo impossibile un rifiuto fu con gran sentimento d'oppressione che mi avvicinai alla proda del letto lento lento sollevai i funebri bracci del cortinaggio e nel lasciarli andare essi ricaddero sulle mie spalle per cui separato dai viventi mi trovai come chiuso nella più stretta comunione con la defunta tutta l'atmosfera della camera sapeva di morte ma l'esalazione particolarissima della barra mi faceva male e mi pareva già di sentire venire su dal cadavere i deleteri principi del suo sfaccelo per liberarmi di là avrei pagato un mondo avrei donato l'anima per fuggire all'influsso pernicioso della mortalità per respirare ancora una volta l'acre puro dei cieli eterni e sereni ma io non aveva più il potere di muovermi mi sentiva inchiodato là quasi masso mi vacillavano fortemente le ginocchia sembrava che fossi piantato nel suolo continuando a guardare fisso fisso l'irrigidito cadavere lungo disteso nell'aperta bara cielo è egli mai possibile adunque il mio cervello dato la volta o il dito della defunta si è mosso nella bianca tela che lo copriva possibile tutto tremante d'inesprimibile paura alzai lentamente gli occhi per vedere la fisionomia del cadavere la benda con cui egli aveva fasciato la bocca non so come si era allentata ed era caduta le labbra contorcevansi lividamente in una specie di indefinibile sorriso ed attraverso il melanconico loro contorno i denti di berenice bianchi lucenti affilati terribili mi fissavano tuttavia con una vivezza di vita reale quasi preso di convulsioni diaboliche mi staccai dal letto e senza proferire parola mi slanciai come un maniaco fuori di quella camera di mistero di orrore e di morte mi trovai nella mia biblioteca stavo seduto ed ero solo solo mi sembrava di essere uscito da un sogno confuso ed agitato mi accorsi che si era fatta notte io aveva però preso tutte le precauzioni possibili perché berenice fosse seppellita dopo il tramonto del sole ma non serbai alcun reale né ben definito ricordo di quanto era passato durante sì lugubre intervallo non di meno la mia memoria era invasa di orrore orrore tanto più orribile quanto più vago di un terrore reso più vivo per la stessa sua ambiguità era una specie di pagina spaventosa del registro della mia esistenza interamente scritta con oscure rimembranze di ribrezzo inintelligibili ogni mio sforzo per leggere in queste strane linee vano e tuttavia di tanto in tanto simile al lamento di suon che si involi un grido flebile acuto una voce di donna sembrava arrivasse a ferirmi le orecchie avevo io forse per avventura tentato e compiuto qualche cosa ma e qual era mai questa cosa e a voce alta rivolsi a me stesso la domanda e gli echi della camera con un sussurro decrescente mi rimandavano la risposta qual è dessa mai questa cosa sopra la tavola al mio fianco ardeva una lampada e presso di essa un cofanetto di evano non molto notevole il suo stile e un tale oggetto io l'aveva già visto spesse volte essendo esso proprietà del medico della mia famiglia ora come mai questo cofanetto trovavasi là la sulla tavola e perché al solo guardarlo mi sentì scuotere per lo spavento ogni fibra è vero queste erano cose a cui non valeva la pena di volgere lo sguardo ma alla fine i miei occhi caddero sulle aperte pagine di un libro e si fissarono sopra una frase sottolineata questa frase energica nella sua semplicità e singolare apparteneva al poeta ebn zayat ed era dicebant mihi sodales si sepulcrum amiche e visitarem curas meas aliquantulum fore levatas com'è dunque mai che a leggere queste parole i capelli mi si rizzassero sul capo ed il sangue mi si agghiacciasse nelle vene in questa eccoti picchiare lieve alla porta della biblioteca e pallido come un essere di oltretomba farsi innanzi in punta di piedi un mio famiglio aveva lo sguardo per terrore stravolto e si appressò a parlarmi con voce bassa bassa tremula e come soffocata che cosa mi disse gli io ne capì appena qualche frase interrotta armi che mi narrasse come uno spaventevole grido avesse turbato il silenzio della notte che tutti i famigli si erano riuniti che tutti i famigli si erano riuniti che si erano fatte ricerche nella direzione del suolo infine la sua voce bassa bassa si fece distinta sino a farmi fremere quando l'ebbi inteso affermarmi che si parlava di una violazione di sepolcro d'un corpo sfigurato privo del suo lenzuolo che tuttavia respirava che tuttavia palpitava che era vivente e guardò i miei vestimenti erano tutti oscenamente grommati di fango e di sangue senza proferire parola mi prese dolcemente per la mano e in essa apparivano larghe stimmate di unghie umane allora i diresse l'attenzione mia verso un oggetto locato contro il muro era una bara con un grido straziante mi slanciai alla tavola ed afferrai con bulso il cofanetto d'ebano ma non ebbi la forza di aprirlo e in quel mio tremito nervoso sguizzatomi di mano pesantemente cadde e andò in frantuni e rotolando sul pavimento con enorme fracasso quasi suono di vecchie ferramenta vidi uscirne alcuni strumenti di chirurgia dentaria e tra essi trentadue coselline bianche bianche come lavorio che scricchiolando si sparpagliarono sul nudo pavimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti